Anche quest'anno i dipendenti forestali si trovano in difficoltà. I fissi non percepiscono lo stipendio da gennaio. Gli stagionali sono ancora senza un lavoro. Per questo hanno organizzato un presidio davanti alla sede mestrina dell'assessorato regionale all'ambiente e foreste. Quello che chiediamo è importantissimo. I dirigenti devono darsi garanzia di attuare la procedura che poi noi porteremo dall'assessore Bottacin per garantire l'autorizzazione di spesa e di conseguenza, questa è una questione tecnica ma fondamentale, attivare i contratti per tutti gli stagionali che sono oltre 370 persone a 165 giornate. Questo è un passaggio indispensabile. Abbiamo chiesto alla direzione regionale che stamattina si è incontrata con i dirigenti territoriali di assumere questa importante responsabilità. Il lavoro dei forestali è importante? È tanto importante quanto quanti morti si contano poi quando succedono le tragedie. Che cosa succede? Quando ci sono i morti in fondo valle non è che vengano a caso, è perché il monte non è stato curato. Lì contiamo gli incendi nella nostra regione sono ridotti a zero e sono assolutamente aggrediti e fermati. Perché? Non perché qua gli incendi abbiano un DNA diverso. È perché ci sono i forestali che fanno un determinato tipo di lavoro, intervengono con un determinato tipo di professionalità. Tutte quante le coste, la riviera Asca, dove hanno fatto tutta una serie di lavori, e se determinati tipi di paesaggio li trovi con un determinato tipo di è perché ci sono delle persone professionalizzate che sono là tutti i giorni. La presenza dei lavoratori è un deterrente per atti di vandalismo. Serve per la pubblica incolumità. Adesso attualmente i cantieri sono chiusi e in caso di temporali o piante secche che cadono gli accessi sono chiusi, le strade sono interrotte. Quindi è importante e fondamentale il nostro intervento. E non solo, ma è importante capire quando si può intervenire. Perché adesso noi andiamo ad operare certi tipi di lavoro non li possiamo più fare perché ci sono le nidificazioni in corso quindi tagli non si possono fare. Non è la prima volta che i forestali protestano e ora che il bilancio regionale è stato approvato i sindacati sollecitano un'accelerazione delle procedure. Devo però dar atto anche che le nostre battaglie hanno consentito di mantenere in questi anni anche di crisi e di difficoltà lo stesso importo finanziario per garantire i nostri 625 lavoratori che ormai da dieci anni sono sulla breccia dell'onda e stanno pretendendo sempre con grande fatica e con grande difficoltà il loro diritto, quello di lavorare. Grazie. Grazie.